questo sarà un video dove vi farò vedere delle giocate c'è una partita bella che mi è venuta in arena dove sono arrivata secondo posto perché sono morta dalla sefa ma quali sono dettagli ho fatto 8 kill quindi volevo pubblicare questa questa game e niente lasciate un like per altri video così se volete il video delle sense commentate ciao iscriviti al canale Grazie a tutti 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 No... Grazie a tutti No... Grazie a tutti